Buonasera cari concittadini, abbiamo pensato che quest'anno vogliamo raggiungervi tramite questo video per dare gli auguri a tutti quanti voi in questo momento molto particolare. Il Natale, la festa della speranza, la festa della gioia, la festa che porta tutte le famiglie a riunirsi e a vivere serenamente giorni di spensieratezza e felicità è il momento in cui tutti quanti trovano le speranze che ripongono il loro cuore. L'amministrazione comunale ha voluto così raggiungervi per augurarvi uno splendido Natale, un felice Natale, un Natale che porti tutte le gioie che voi vi attendete, che tutte le speranze, che tutti quanti i vostri desideri si possano avverare. E poi si traccia il bilancio, il bilancio di un anno, un anno particolare il 2017. Mi piace ricordare due momenti importanti della nostra comunità. Il 10 maggio, giorno della tappa del Giro d'Italia, pedara vestita di rosa, pedara piena di gente, pedara nel mondo. Momento che rimarrà impresso nei nostri cuori, che verrà impresso nei nostri ricordi per sempre. E poi, altro ricordo importante, il sorriso, la gioia dei nostri bambini al momento in cui la nostra bambinopoli è stata inaugurata. Sono quei momenti in cui rimarranno scritti nella nostra mente per tutta la nostra vita. Non tutto è positivo. Tanti problemi sono sulla strada di un'amministrazione. Abbiamo da soffrire, abbiamo avuto momenti bui, tristi, ma la nostra è una squadra unita. Ha voglia di lavorare e ha voglia di capitanare una riscossa che ci sarà. E' anche il momento in cui entra un anno nuovo, il 2018, un anno carico di aspettative, un anno in cui pedara festeggia il suo bicentenario, un momento in cui il Paese dovrà rendere sempre di più la sua idea di unità, a cui noi tendiamo sempre. Vi auguro, anzi, vi auguriamo, io, la Giunta, il Presidente del Consiglio e i consiglieri comunali tutti, che l'anno che sta per entrare sia l'anno in cui tutte le vostre aspettative siano realizzate. Soprattutto una parola sola, prosperità, una parola importante, una parola su cui noi puntiamo sempre perché ci sia sempre serenità, felicità e gioia in tutto il nostro fare. E quindi l'amministrazione comunale di Pedara vi dà il suo augurio più franco, più fraterno, più affettuoso, a voi e a tutti i vostri cari. Auguri ai nostri fratelli di Malta, ai cittadini di Zurich, al suo sindaco e a tutto il suo consiglio, gli auguri di questo gemellaggio partito a settembre del 2017 e che vedrà un'evoluzione nel 2018. Auguri, cari fratelli, che possiate passare le feste più serene, che la prosperità possa entrare nelle vostre case. Auguri da parte dei vostri fratelli pedaresi. Tanti auguri Zurich, buon Natale e buon anno nuovo!